Mi chiamo Jessica Lorena Catalano, vivo qua in Italia ormai da 20 anni, ma sono nata in Colombia. Vivo esattamente a Trento. Lavoro presso un centro di urno di una RSA di Trento. Mi sono diplomata in un'accademia di cinema a Verona. Subito dopo ho frequentato un corso di recitazione organizzato da Nuova Era Film, cofinanziato dalla Comunità Europea, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Pellizzano. Sto continuando i miei studi nell'ambito della recitazione. I miei hobby sono cucinare e il trucco, ma la mia più grande passione è il cinema, è quello che vorrei fare nella vita. Adesso vi mostro i miei profili. Le mie mani. Grazie e il resto a vostra disposizione.